1, 2 e 3, andiamo! Quello che abbiamo già collegato rappresenta la rete civico urbana di questo quartiere, che è indicato con un numero 13. Invece il pallino più sopra rappresenta la casa comunale, quindi questo è il primo legame della rete civico urbana tra il comune e il quartiere Poggio Franco e poi lo colleghiamo anche con Picone. Non solo Orto Domingo, tantissime attività per i prossimi 18 mesi. Sì, abbiamo in programma 143 attività in 453 ore. Siamo 23 partner e lavoreremo per dare attività appunto a anziani, bambini, faremo tango, faremo giochi, faremo socialità. Oggi si cominciano a collegare i quartieri e poi con le reti civiche si collegherà tutta la città. Sì, reti civiche urbane è un'esperienza che abbiamo permutato da questo orto. Se guardate là sopra ci sono tanti balconi, è un supercondominio, sono 320 nuclei familiari che anziché litigare un giorno decidono di scendere, di prendere un suolo comunale e di gestirlo in autonomia. È diventato un grande orto urbano, un piccolo parco, devo dire la verità, che si è realizzato da solo con i condomini, con le associazioni di questo quartiere, le scuole, le parrocchie hanno fatto una cosa straordinaria. Il Comune ha saputo, credo, ascoltare, guardare e ha permutato questa esperienza, l'ha trasformata in reti civiche urbane. Adesso ci sono 12 reti civiche urbane, una per ogni quartiere della nostra città, dove associazioni, scuole, parrocchie, cooperative, imprenditori privati, supermercati, fondazioni bancarie si sono messe insieme e stanno animando dal basso la nostra città, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista culturale. Qualcuno prima ha detto che qui si coltivano sicuramente melanzane, patate, pomodori, ma si coltivano soprattutto relazioni umane, relazioni tra le persone, il fare comunità che è la cosa più importante per la nostra città ed è quello che vogliamo fare. Io vorrei costruire la più grande opera pubblica di questa città e l'opera pubblica più importante secondo me è l'umanità e la comunità della città di Bari, perché i sindaci poi passano, passano i presidenti delle associazioni, i parrocchi, quello che resta però è la rete delle persone. Oggi c'è una straordinaria dimostrazione di una rete di cittadini attivi che si mettono a disposizione degli altri, ottenendone un ternaconto personale, l'umanità, il lato umano di ciascuno di noi, credo sia importante per una città.